Ben ritrovati dalla redazione di Calciomercato.com, nuovo appuntamento con il Fantacalciomercato con Andrea Sereni, Alessandro De Felice, ciao Alessandro, ci giocheremo anche questa settimana le nostre schedine con 10 giocatori, con le mete possibili per queste 10 scelte che abbiamo fatto, anche questa settimana ci sono due giocatori uguali che abbiamo giocato identici, sono Niccolò Barella che secondo me Alessandro finirà all'Inter e Edinson Cavani che a nostro parere potrebbe finire al Napoli, entrambi quota 10, poi qual è il resto della tua schedina Sì, oltre a Cavani e Barella ho giocato Versali con l'Inter, mentre Zappacosta per me resterà al Chelsea a quota 5, un altro nome caldo è quello di Santiago Arias, ho dato il suo passaggio al Napoli, quota 2. Andando avanti, Dembélé ho giocato la sua permanenza al Tottenham Quindi alla fine su te rimane al Tottenham? Secondo me sì, nonostante l'interesse dell'Inter, è quello di vari club tra cui alcuni turchi, mentre un altro nome caldo è quello di Gonzalo Higuain, per me ho giocato il suo trasferimento al Milan. Ah no, io qua invece come ti dirò, tra poco ho giocato qualcosa di diverso, prosegui. Andiamo avanti, Daniele Rugani, anche lui nel melino del Chelsea, per me resterà la Juventus, quota 10, mentre ho giocato il trasferimento di Domenico Berardi dal Sassuolo alla Roma, che dopo aver perso Malcom potrebbe appunto rinforzarsi con l'esterno italiano. Ultimo nome è quello di Leonardo Bonucci, nome caldo negli ultimi giorni. Io ho giocato sul suo passaggio, ho scommesso il suo passaggio alla Juventus, sul suo ritorno alla Juventus. Ah, quindi credi al grande ritorno di Bonucci. Assolutamente sì, quotato 5, per un totale di 75. Tu invece? Allora, il mio totale è leggermente superiore perché è di 95 e quindi oltre Barella e Cavani che abbiamo già detto, ho giocato anch'io Gonzalo Higuain, ma l'ho giocato al Chelsea. Credo ancora che il fuoriclasse argentino possa finire a Londra da Maurizio Sarri, quota 5, come detto. Poi ho giocato la permanenza di Sergei Milinkovic-Savic alla Lazio, anch'esso quota 5. Il trasferimento di Matteo D'Armiando al Manchester United dalla Juventus, ho quotato 10 dal nostro Cristian Giudici. Poi Joao Mario, che è un nome in uscita dell'Inter, credo possa alla fine tornare allo Sporting Lisbona. La quota che abbiamo associato a Joao Mario è di 15. Poi Manuel Locatelli, un altro centrocampista. Penso alla fine possa accordarsi con il Sassuolo e finire lì. Poi c'è Marco Piazza. Marco Piazza è un nome caldo sul mercato. Marco Piazza, tra Fiorentina e Sampdoria. Credo che alla fine vada alla Sampdoria, quota 5. Ed infine due nomi anche essi molto molto importanti, che sono quelli di Alvaro Morata, credo possa finire al Milan, quota 10. Quindi questa è la mia giocata sul balzer delle punte, Guain al Chelsea, Morata al Milan. Ed infine Arturo Vidal. Penso che possa finire all'Inter, anch'esso quota 15, quindi Vidal ha l'Inter quota 15, per un totale di 95. Quindi la mia schedina fa 95, è alto. Una quota molto alta. Vi invitiamo a restare su calciomercato.com, a sfidarci, come avete fatto nelle scorse settimane, e a seguire tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato. Per qualsiasi dubbio scriveteci nei commenti e chiedete al nostro Cristian Giudici. Un saluto da Alessandro De Felice e Andrea Sereni. Alla prossima. Ciao.